Buongiorno a tutti per lavorare a tutti, sono in sito Blastar su Blastar andremo a fare le altre partizie a vedere il mio bloccone per fare un'altra parte la più grande andiamo andiamo a fare ok, no, te l'ho costato un bravo e prima andiamo a scoccare lì aspettate, guardate 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 eccola volevo unire la mano però mi uccida provo a sparare no non ce la fanno e lo avevo mai sconto è proprio non poter a e oh oh non è Sì, è vero. Non è vero. Adesso è vero, tutti. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Una. Non ci stai certe estremo anche lado. Ci sono andati. La vero? È vero, non è vero. Non adessoדרò che che uang la senti. 30 giorni per farlo. Questa è la parte di Pizio. Questa è la parte di Pizio. Questa è la parte di Pizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e bella rai.